Il comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, il nucleo operativo ecologico di Catanzaro ha posto sotto sequestro l'area che vedete alle nostre spalle. Un tempo la discarica comunale di Praia Mare oggi esausta e chiusa ormai da diversi anni. Il sequestro, avvenuto venerdì 28 marzo 2014, fa seguito ad una denuncia elevata qualche mese fa da parte di un gruppo di ambientalisti del territorio appartenenti al Comitato per la Bonifica dei Terreni, delle Acque, dei Mari e dei Fiumi della Calabria. A seguito di quella denuncia erano partite le indagini da parte del nucleo ambiente della Procura della Repubblica di Paola e oggi con l'apporto dei carabinieri anche della locale stazione di Praia Mare è avvenuto il sequestro di questa area di 3000 metri quadrati. Gli inquirenti avrebbero certificato uno sversamento irregolare di percolato derivante proprio dalla discarica che tracimerebbe da una vasca di raccolta verso un terreno di proprietà privata. Per il momento è stato ipotizzato il reato relativo all'articolo 674 del codice penale, ovvero il getto di sostanze che inquinano, alterano i luoghi circostanti. Un reato definito a largo spettro in attesa che ulteriori indagini chiariscano meglio quali sono i reati da contestare. In linea di massima al momento è stata elevata una denuncia contro ignoti, ma lo ricordiamo la discarica di proprietà comunale verso l'amministrazione comunale molto probabilmente si indirizzeranno le responsabilità di quanto è stato accertato dagli inquirenti. In particolare, come ha fatto sapere la Procura della Repubblica di Paola, sotto attenzione non solo l'aspetto ambientale ma anche l'aspetto amministrativo di questa discarica, con presunte omissioni nella caratterizzazione dei luoghi nella messa in sicurezza della discarica e nel controllo delle acque a monte e a valle dei cumuli di rifiuti interrati. Ciò nonostante qualche mese fa, proprio attraverso la nostra emittente, il sindaco di Praia Mare, Antonio Pratico, aveva mostrato proprio le analisi sulle acque effettuate in questo punto. Ma qui in località Zaparia di Praia Mare, quello della ex discarica, non sembra essere l'unico problema di natura ambientale. Infatti nelle zone circostanti, proprio la discarica che adesso è sotto sequestro, abbiamo potuto notare diversi rifiuti abbandonati come cumuli di pneumatici ma anche una palma presumibilmente affetta dal punteruolo rosso.